Buonasera a tutti, sono Francesca, oggi un video molto spontaneo, poco preparato tanto per cambiare perché sono in vacanza al mare e tra 5 minuti mi busserà mia madre per andare a cena Allora, cosa voglio mostrarvi? Un set di 5 prodotti, erano dentro un confanetto però purtroppo l'ho lasciato nella mia casa in città per curare le sopracciglia Io ero molto scettica, pensavo che questo prodotto avrebbe reso le mie sopracciglia tipo quelle delle russe che sembrano tipo tatuate invece mi sono trovata veramente benissimo Ben 5 prodotti, il costo di questi prodotti che sono della Benefit, una marca buonissima che tra l'altro penso sia l'azienda che pensa di più al tema delle sopracciglia che sono in realtà molto importanti Io sono una fan delle sopracciglia grandi Quando ero molto giovane una mia amica mi distrusse le sopracciglia, me le levò tutte e ora sono ricresciute, qualcuno mi dice che sono brutta, che dovrei togliermele No no, io sono una fan come Frida Kahlo del sopracciglio grosso, anzi ne vorrei ancora di più Allora, partiamo 5 prodotti che dovrebbero costare 166 euro, nel cofanetto costano 60 euro, ora in svedita a 30 euro quindi insomma dai, meno di 7-8 euro a prodotto Partiamo dal primo, che è un primer Il primer è una cremina che rende le tue sopracciglia più soffici C'è scritto che può essere usato anche durante la notte e rende le tue sopracciglia più adatte a ricevere i prodotti che ora metteremo e devo dire che funziona assolutamente è un prodotto, non so se lo sapete, però il primer c'è anche per la pelle, c'è anche per le labbra c'è anche per gli occhi, c'è per tutte le parti del viso e diciamo che prepara questa parte agli altri prodotti e sicuramente non avrei mai speso 30 euro per questa cosa però in questo cofanetto diciamo che è sicuramente utile poi c'è la full proof brown powder che sarebbe una specie di ombretto aspetta, non vi ho mostrato ecco, questo era il primer quindi questa testina dal quale fuoriesce questo liquido quando io, vediamo se addio sì, non si vede, però quando faccio così esce il liquidino ecco, lo uso perché chiaramente devo andare veloce perché sennò vi annoio troppo anche perché devo andare a cena questa sera non pago la cena, evviva vediamo se mia mamma busserà prima della fine del video ecco qui, una specie di ombretto con il suo pennellino, adorabile tra l'altro c'è anche questa parte del pennellino che lo rende ancora più figo ecco qui e è esattamente perfetto per il mio colore e si usa questo colore nella prima parte della sopracciglia e quest'altro colore e quindi vado e questa specie di ombretto per le sopracciglia va a riempire tutti i buchetti dove magari mancano delle sopracciglia e devo dire funziona veramente bene sì, mi piace moltissimo questo prodotto già solo con... ecco, questo lo potrei consigliare anche singolarmente io qui ho... in particolare qui ho un buco perché questa mia amica quando avevo 14 anni mi ha spennata e quindi ne metto in particolare qui comunque voglio già anticiparvi se riuscirete a non annoiarvi ad arrivare fino alla fine del video che alla fine l'effetto è estremamente naturale però io, caspita, vedo la differenza ecco qui e quindi mi sembra di averlo messo bene come potete vedere ho un top di piume rosa perché volevo imitare Lady Gaga purtroppo non ci riesco nel senso che io canto male e lei canta benissimo allora, come vedete già le mie sopracciglia sono più definite ma mancano ancora tre prodotti dio mio, siamo già a 5 minuti allora, questa matita che anche essa è fornita di questo strumento quindi questo strumento c'è ovunque questa matita che si chiama Precisely My Brown Pencil ha un colore oddio, speriamo che non si sia rotta no, eccolo qua oddio, eccola qui eccola qui ha un colore estremamente chiaro quindi si nota pochissimo vedi, se tu ora sono anche abbronzata vedete il colore che ha è molto chiaro e quindi non dà un effetto volgare è estremamente tutti questi prodotti si notano poco il che è un bene perché sulle sopracciglia chiaramente e quindi andiamo a definire ulteriormente le sopracciglia mi malediranno le spette di trucco perché sto facendo un video molto spontaneo ecco qua e devo dire che però l'effetto cioè era necessario no? perché mentre con la polvere riempi un po' i buchi con questo proprio definisci molto meglio le tue sopracciglia senza comunque creare un effetto poco naturale no? bello, bello mi piace devo dire sono rimasta colpita in positivo ok iniziamo con il quarto prodotto che è quasi l'ultimo che è questo si chiama 24 hour brown setter no 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 scusate questo è l'ultimo no ho sbagliato beh la spontaneità della diretta brown conditioning primer no 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 questo era il quarto eccolo qua 3D brown 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 tones ecco qua il packaging è molto bello mi ricorda un po' l'architettura russa con le cupole ecco è molto particolare come sette ecco qui allora il 3D brown tones cosa sarebbe? è una specie di rimmel per le sopracciglia tutto qui una rimmel per le sopracciglia con la differenza che diciamo chiaramente il rimmel fa un effetto più volumizzante questo è più allungante e questa famosa influencer ha scelto perché questo set è stato fatto da una famosa influencer di cui non ricordo il nome perché ho lasciato il cofanetto a casa ha scelto il color prugna e devo dire che non è niente male ragazzi cioè veramente fa un bellissimo effetto e quindi bisogna mettere un po' di questo prugna che da un diceva questa influencer che è perfetto per gli occhi chiari io purtroppo ho gli occhi scuri comunque devo dire che mi piace molto anche su di me questo effetto prugna però si nota poco non è non è brutto è a classe questo prugna io non l'avrei mai comprato è questo che mi piace dei cofanetti che ci sono delle cose che non compreresti mai però visto che sono in offerta nel cofanetto poi le provi e devo dire che assolutamente ecco qui perfetto abbiamo messo il prugna non so se si vede l'effetto l'ultimo prodotto è il famoso primer di cui parlavamo prima che è eccolo qua voilà e si chiama 24 hour brown setter quindi questo aiuta a mantenere le tue sopracciglia durante la serata e dura appunto 24 ore quindi questo mentre il primer ammorbidisce questo fissa le tue sopracciglia e quindi rimangono in quella posizione allora ecco qua e serve perché è come una specie di lacca come una specie di fissante e anche le tiene ordinate pettinate no? e questo prodotto ma devo dire la verità sono contentissima cioè io continuerò a utilizzare questi prodotti non tutti i giorni perché come forse sapete a me non mi piace essere dipendente da queste cose mi piace essere libera cioè mi piace farlo per divertimento ma non per obbligo perché secondo me una donna può essere bella anche senza trucco ok ho messo tutti i prodotti mi piace alla fine prendo questo pennello che è comunque in dotazione e ci ha spiegato che questa parte del pennello serve di più a chi ha poche sopracciglia ecco qua e invece questa parte è più perché ne ha tante come me e quindi le pettino in modo che tutti i prodotti che ho messo si si estemino ecco qui quindi questo è il giuntato finale e ragazzi è bello nel senso che è naturale però sono meglio di prima cioè quasi non si capisce che le ho truccate e a me piace moltissimo io sono una fan delle sopracciglia grandi e devo dire che le mie sopracciglia sono state valorizzate da questi 5 prodotti di benefit che potete comprare in questo cofanetto per avere delle sopracciglia perfette quindi 10 minuti e se siete arrivati fino alla fine del video vuol dire che o siete masochisti o vi sono antipaticissima o mi adorate vi ringrazio e vi consiglio assolutamente questo cofanetto non comprate i prodotti singolarmente perché costano 30 euro l'uno non ha senso ma il cofanetto se proprio non avete niente di meglio da fare perché io dico sempre che queste cose servono per passare il tempo quando si è un po' depressi ma comprate lo cofanetto della benefit per avere sopracciglia perfette buona serata a tutti da Jesolo da Francesca un bacio e guardate che razza di sopracciglia potenti che ho buona serata